Ben ritrovati in una puntata di 2020 Sport & Food, la nuova declinazione di quest'anno Piero Fraganzani, siamo alla quinta declinazione, il mio compagno di viaggio che mi accompagna anche oggi in una puntata speciale perché oggi si parla di un argomento forse un po' non usuale, lo sport voglio dire non ha nell'età agonistica, perché lo sport non ha età vero Marco Maggia? Ho capito e pensato a me Presenta Marco Maggia, Piero visto che vi conoscete bene Marco Maggia è il proprietario di uno splendido albergo che si chiama Hermitage ed è in quel di Abano Terme ed è un albergo particolare E' un medical hotel Un medical hotel Io vi ringrazio dell'invito Dopo lo spieghiamo, dopo lo spieghiamo, abbiamo già l'ospite vero? Allora Massimo Reggetti di Regia che ringrazio, mi dice che abbiamo Gianfranco Beda, un atleta, un saltatore con l'asta che ha un trascorso agonistico con una misura che adesso ci dirà quando era nelle fiamme oro Ma adesso è un atleta master cosiddetto, cioè un atleta che ha compiuto già 35 anni, forse neanche 50, adesso non vorrei ce lo confermere a lui Ma comunque ha ancora la voglia di fare sport e ha messo su anche un gruppo di bravi saltatori che anche questi diciamo di ogni età Vero Gianfranco sei con noi? Esatto, col tempo oltre a qualche chilo ho messo su anche un gruppo di saltatori che con gran passione si dedicano a continuare a questa attività Molto bene, allora ho detto bene quando ho detto che hai un personale di tutto rispetto a quanto risali E forse ero anche più alto, ero riuscito a fare 5 metri e 50 Però adesso la lotta con la gravità è un po' più dura ma comunque la passione e il divertimento restano uguali Ho detto bene 50 anni, ho detto una cosa sbagliata, non vorrei aver mai... 50, no, perfetti, esatto 50 spaccati, allora innanzitutto come ci si prepara per l'attività sportiva a 50 anni? C'è un po' di differenze in maggio, anche l'alimentazione, un po' tutto, l'allenamento Diciamo che la motivazione comunque è la cosa più importante perché quando hai famiglia, lavoro e tutto L'alibi è sempre dietro la porta, ma se sai che c'è un gruppo ad aspettarti con gli stessi problemi Poi ci si dà una mano a motivarsi Esatto, come si chiama questa associazione che hai fondato? Questa associazione sportiva direttantistica, giusto? Si chiama multi sport e fan appositamente perché la parte anche fan di divertimento è importante Come no? La caratteristica è che ci sono sia i ragazzi giovani, i campioni giovani e quelli di una volta E questo viaggio nel tempo fa bene un po' a tutti, agli antianoti perché sono motivati dai giovani E i giovani perché la storia comunque è sempre importante E girate il mondo, è vero? Siete stati anche all'estero? Sì, come sorpresa mi hanno iscritto, visto che la gara della mia categoria era il giorno del cinquantesimo compleanno Mi sono trovato in canta con tutti i saltatori con l'asta e siamo andati a Madrid a fare una gara Ah però, e com'è andata? Bene? Sì? Beh, la trasferta è bene, la gara, insomma, qualche acciacco ci vorrà un po' di tempo Ma non male neanche quella, dai Io ho sempre ammirato questi saltatori, fanno delle cose Ah, incredibili, incredibili Vincere le leggi di gravità Ma poi bisogna ricordare San Franco che a Padova il mitico Sergei Bubka Già Riuscì a fare un record mondiale, vero? Proprio all'Arcella? Sì, è riuscito proprio al meeting di Padova a fare un record del mondo importante Lo ricordo benissimo E quindi un vanto Ha valorizzato molto l'impianto sportivo perché è andato oltre i sei metri E con un salto incredibile Diciamo che ha fatto bene quel record anche perché c'è stata una grande affluenza Poi gli atleti che hanno conosciuto questa specialità Ma in generale tutta l'atletica mi sembra che sia valida anche dopo una certa età O no? Si può ancora fare tranquillamente perché c'è la corsa? E' un rilancio ultimamente Ed è anche una cosa bella insomma alla fine perché oltre all'aspetto fisico C'è anche un rispetto, un risvolto sociale importante Quindi è bello che lo sport sia un modo comunque anche di passare il tempo in modo positivo Anche per voi c'è il terzo tempo come nel rugby? Direi che nel salto collazio, poi io provengo dal rugby Aspetta ma dopo ci arriviamo, l'ho tenuto di proposito a parte Comunque nel salto collazio, come appunto avevate accennato giustamente voi E' uno sport anche di coraggio e di spericolastezza se si può dire Quindi il fatto di essere un gruppo è importante E fra le situazioni che favoriscono il gruppo fa proprio il terzo tempo Anche il quarto, anche il quinto a volte Ecco lei direi che abbiamo un auguri da fare assolutamente Perché questo fine settimana si disputa la finale nazionale Del torneo Super 10 di rugby In cui finalmente il Petrarca può ricucirsi lo scudetto Non contro il Rovigo, che sarebbe stato un bel derby Come quella volta che siamo andati dai Battaglini a portarli via lo scudetto Ma contro il Carvisano Dico bene Gianfranco, stai seguendo il rugby ovviamente Certo, ma mi farebbe un gran piacere perché ero nella panchina del Petrarca Nel 2011 quando abbiamo vinto lo scudetto Ero un preparatore atletico Sì perché tu hai lavorato sia col Petrarca che sia con la nazionale Se non sbaglio Sbaglio anche con Viadana, con Rovigo E con altre squadre Perché Gianfranco, devi sapere, caro Marco Ha anche inventato il fit rugby Cioè il rugby che si può fare anche come forma di ginnastica Anche penso per le donne, no? Una cosa che si può fare ad ogni livello Soprattutto donne e donbini Senza rischi di contusioni o... Beh, presunto... Abbiamo preso solo gli esercizi più divertenti e performanti Anche meno pericolosi E quindi siamo codificati come gli attrezzati da parte Ma è giusto che il rugby sia vissuto anche... Quindi un rugby da palestra se vogliamo dire, no? Si chiama proprio fit rugby da palestra con degli aspetti della preparazione importanti Ma senza la fase del placaggio che è la situazione un po' più delicata da provare Ciao, io ho una madre biancolera Per chi mi vedrà in televisione sul Caffè TV24 E direi che insomma è chiaro Per cosa tifo In tutti gli sport è chiaro per cosa tifo Però direi che possiamo chiedere a lui Visto che ha detto ai lavori Come la vedi? Dacci un tuo pronostico Eh, beh, io da Padovano Spero sempre nel Petrarca Però bisogna dire che quella volta lì Nel 2011 abbiamo vinto una finale Stoica Al Battaglini e l'ha vinta al Petrarca Non vorrei che loro si appodino su questa cosa Per fare il contrario Ma come li vedi questi del Calvisano? Io sinceramente ho seguito poco le partite quest'anno Però insomma so che sono forti Beh, il Calvisano è una squadra ben strutturata Poi hanno un allenatore in gamba Tutte e due le squadre hanno secondo me I due migliori allenatori che ci sono adesso nel campionato Ecco Chissà che poi arrivi a qualcuno nazionale Che c'è tanto bisogno, vero? Sì, sì Nazionale le buschiamo Senti, visto che si parla qua anche di cibo Di alimentazione Tu com'è che ti Come dire Com'è che ti carburi? Com'è che Dove trovi le energie per saltare? Non sono un buon esempio Però Penso che come in tutte le cose La via di mezzo sia sempre quella giusta Quindi Non credo molto in quelli Che stanno attenti anche Al grammo di pasta O che vivono una sofferenza Continua Ma non è giusto neanche Fare il contrario Io ho abbracciato Cerco di essere regolare tutta la settimana Per poi il mercoledì sera Con i ragazzi di Salto Collata Poter mollare le briglie Certo Vogliamo ricordare qualche nome importante Della vostra squadra Perché avete veramente dei campioni Abbiamo la fortuna che nel nostro gruppo C'è il campione italiano In carica Giorgio Piantella Che ha vinto l'anno scorso A Trieste E anche la campionessa italiana assoluta Elisa Molinarolo E questo ci fa onore Perché abbiamo i due più giovani E più forti Più giovani però Oltre 35 anni Giusto? O no? No no Sono proprio campioni assoluti Ah assoluti Poi mi sembrava ci fosse un certo Moranì Che ha 36 anni Può essere No no Moranì ha portato l'asta Moranì è stato il fondatore C'è stato con l'asta Padova Negli anni 70 Ah scusa L'ho letto male la scheda Però questo Moranì c'entra comunque Voglio dire Ha fondato la scuola Giusto? Il bello è proprio Che il mercoledì sera Spesso viene anche lui E quindi abbiamo L'allenatore del 1970 Seduto magari di fianco A quello attuale Mi sembra giusto E c'è competizione Tra le generazioni? Ecco sì Bella questa domanda Passaggio generazionale Com'è che avviene? È competitivo? C'è il confronto? Diciamo che all'inizio C'è però Quando il distacco D'età è diverso C'è comunque Una forma di rispetto Che è bellissima Perché Va rispettato Chi ha 50 60 anni Decide comunque Di andare a fare Uno sport del genere Ma allo stesso modo Chi vola a 5 metri Da 20 anni È comunque Da ammirare Perché ci sta dedicando Anima e corpo Poi il bello appunto Come dicevo È che poi ci si trova A tavola In questo Tipico Terzo tempo Atletico Dove invece Si scambiano Sulle opinioni Sì Dove si capisce Dove si sbaglia Magari anche Senti Gianfragro È stato un piacere Averti con noi Ti auguro di saltare Sempre più in alto Per aspera Ad astra Si diceva In latino C'è piena di citazioni Di citazioni Vuoi dire un'altra Anche tu No no Mi fermo qui Per il momento Ci fermiamo È stato un piacere Averti con noi E chissà che ci sentiamo Dopo un'altra gara Importante Magari ci comunicherai Un altro record del mondo Chi lo sa Potrebbe essere Speriamo Grazie Allora E probabilmente Tutta la vostra squadra Multisport and fun E sempre più in alto E allora Marco Parliamo di questo sport Fatto ad ogni età E so che da te Infatti C'è chi può venire A prepararsi Anche per questo tipo L'essere un medical hotel Ci ha aperto Negli anni Appunto A essere un luogo In cui la vita attiva È disponibile Un po' per tutti E quindi La parte medica Diventa quel servizio Di garanzia Di sicurezza Cioè la supervisione medica La presenza di terapisti Della riabilitazione Una sorta di assicurazione Diciamo Fa sì che Chi ne ha fatto poco O anche in giovane età Trova da noi Il luogo per cominciare Poi è bello vedere Perché siamo frequentati Poi da molti Da atleti master Ma anche da amatori Noi siamo vicino Ai Colli Uganei Ormai i Colli Uganei Sono uno scenario bellissimo Sia per andare in bicicletta Che per correre E sono sempre più numerosi Gli ospiti Che partono da casa Con queste splendide biciclette Quindi persone over 50 Ma per i quali L'andare per bici Sui colli Magari padre e figlio Prima ho fatto la domanda Non a caso Perché poi Padre e figlio Si confrontano E poi Sport di fatica Di lunga durata Cioè penso a Alle lunghe corse O alla bicicletta Su lunghe distanze Vedi persone Vedi persone Anche di 45-50 anni Che possono ancora dare Del filo da torcere Certo Volendo Voi fornite le biciclette Noi forniamo le biciclette Sia mountain bike Sia bici da strada E anche un trainer O una trainer Vero? Sicuramente Cioè i nostri laureati In scienze motorie Possono accompagnare il cliente Sia dentro l'albergo Nelle palestre Nelle piscine Ma anche per sentieri E lungo le vie dei colli Dando dei suggerimenti O facendo cose Dato di una trainer Eh ma sai che io ho qualche problemino Ultimamente di deambulazione Purtroppo E quindi faccio fatica Ad andare in bicicletta Però magari con Una brava trainer Le piste ciclavi ci sono Sono meravigliose I colli ugani Meriterebbero di essere segnalati Dall'UNESCO Beh abbiamo già Qua Petrarca Ma visto che adesso I colli trevigiani Per il momento È sospeso il giudizio Per l'UNESCO Proponiamo I colli ugani Diamo la carica a noi Quei colli ugani I monti azzurri Cosiddetti Abbiamo organizzato anche Qualche evento ogni tanto No? Beh a volte sono le associazioni Che ci contattano Anche associazioni podistiche Del territorio O quando abbiamo potuto C'è anche la La squadra di atletica Di Abano Dove ci sono i ragazzi Dove mi diti anche tu magari No no Scusiamo il suo Trascorso Io amo correre Cerco di farlo Il più possibile Quello che però È fondamentale È proprio quando si parla Di attività fisica Sportiva Anche agonistica Anche agonistica In età avanzata È che C'è anche una competizione Con te stesso E quindi il livello Di autostima Aumenta E fare fatica Libera endorfine Libera E siccome andando avanti Con gli anni C'è anche una brutta malattia Di cui nessuno vuole parlare Che è la depressione Vero Verissimo E quindi tu prima Correttamente Perché si ha paura Di parlare Di affrontare certi argomenti E tu prima Hai toccato l'argomento Del terzo tempo Che vuol dire Socializzare con gli altri Della competizione E vincere piace a tutti Ad ogni età Ad ogni età Anche giocando a carte Esattamente E quindi direi che forse Riuscire a fare sport Avanti negli anni È ancora più importante Che farlo da giovani Perché da giovani Molte cose si danno Per scontate E invece il sapore Della vittoria O della competizione Più avanti con gli anni È ancora Poi c'è anche la piscina Da noi c'è Esatto L'attività si fa Le piscine E c'è la possibilità Di farlo In modo controllato Perché A una certa età È importante Conoscersi Quindi capire Quali sono i limiti Qual è la frequenza Cardiaca allenante E quindi essere seguiti Cioè Non fare Come dire Gli autodidatti E se uno si fa male Può capitare Purtroppo Speriamo Speriamo che non accada Proprio da noi Certo Però Se uno si fa male altrove Poi viene da noi E viene da noi A curarsi Il posto operatorio Esatto Io l'ho provato Io l'ho provato Quando mi sono operato Di Anca E mi sono trovato Benissimo Ho fatto un posto operatorio Straordinario Seguitissimo E poi soprattutto Insomma Sei in mezzo Alla gente Non sei in ospedale Insomma Poi si mangia benissimo E questo Ahimè Benissimo Ma controllato Si può fare il terzo tempo Tre volte al giorno Per questa operazione Allora Marco Un'altra cosa Che ti contraddistingue È il fatto comunque Che tu sei anche convenzionato Giusto? Sì La parte termale Come tutti gli alberghi Di Abano È convenzionata Con il servizio sanitario nazionale E questo riguarda I bagni termali Anche le terme Sono benessere Ma sono anche Come dire Propedeutiche Per un certo tipo Oggettivi Esatto Il mezzo termale L'acqua termale Il fango termale E i vapori termali Sono un presidio sanitario Sono un mezzo terapeutico A tutti gli effetti Bisogna dirlo Perché quasi nessuno Lo sa E tutti i cittadini italiani Hanno diritto A poter usufruire Di un ciclo Di terapie termali A carico Del servizio sanitario nazionale Si tratta di informarsi Sulle varie destinazioni italiane Sulle caratteristiche Di quel fango Di quell'acqua E rivolgersi Al proprio medico di base Medico di famiglia Per vedere Se si hanno patologie Coerenti Con le cure termali Disponibili A questo proposito Il fango di Abano E di Montegrotto E di Termiugani È qualcosa in più Mi sembra Ha due caratteristiche fondamentali Uno è un elemento naturale Quindi il fango Noi lo preleviamo Da due laghi termali Nei Colliugani Vicino ad Arquapetrarca E quindi è un elemento Completamente naturale Secondo è un fango maturo Cioè prima di essere utilizzato Con finalità terapeutica Deve maturare Per un certo numero di mesi Nell'acqua termale Per sviluppare Le sue caratteristiche terapeutiche Non è per intenderci Una polverina Che viene mischiata Con l'acqua Pochi minuti Prima del trattamento Immaginato Altra cosa Si fa con visita medica Perché Collaborazioni con l'Università di Padova E di Milano Tutto ora in corso Dei programmi di ricerca scientifica Che facciamo da noi All'Ermitage Medical Hotel Hanno appurato Che c'è un incremento Della frequenza cardiaca Del metabolismo basale Proprio connesso Sulle persone sedentari O anziane Con il fango Come me Tu non sei anziano Piero No io non sei un anziano Un po' sedentario Voglio vedere una foto Però di Piero Che fa i fanghi Le cure termali Si fanno al mattino E al pomeriggio In alcune settimane dedicate Si chiamano settimane fit Abbiniamo la cura termale A un'alimentazione Controllata E allo sport Attività fisica E sport Sia all'aria aperta Che in albergo C'è chi viene Per riprendersi Per fare prevenzione Quindi diminuire Il rischio cardiovascolare Un sacco di malattie Lo sport È una medicina Anche lo sport E c'è chi invece Viene proprio Per la performance E misura da noi La sua capacità aerobica Prima della prova al costume Esatto Ormai ci siamo Allora salutiamo Perché siamo Indirittura d'arrivo Quando corriamo A un certo punto Per fortuna C'è anche un traguardo Perché se no qua Andiamo sempre lì Sattiamo con l'asta di là E non c'è nessuno Alla fine Che è là Con la bandierina Che ci aspetta Quindi è stato un piacere Avere Marco Maggia Con noi Il direttore Titolare Fondatore Herbitage Medical Hotel Herbitage Medical Hotel Di Abano Terme Di Monte Ortone Però E poi vi ringrazio Gianfranco Beda Che è appunto Atleta master Di salto con l'asta E soprattutto Anche un grande Come dire Preparatore atletico Nel campo del rugby Vi ringrazio Massimo Arighetto Ricordo che 20.20 Sport & Food Ma in onda Il mercoledì Dalle 18.00 18.30 Sulle frequenze di radio sportiva E il venerdì Alle 21.00 Su Caffettivo 24 Ci vedrete anche in tv Ciao Alla prossima Da Paolo Paghetto Grazie a tutti Da Pia Pia Paganzari Ciao Ciao Grazie a tutti